Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale, chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate, perché oggi andiamo a fare la schedina della decima giornata ragazzi, questo turno infrasettimanale di Serie A, andiamo a vedere, è molto ma molto difficile, specialmente perché c'è il super big match ragazzi Milan-Napoli e se vincesse il Napoli sì che va in fuga, perché da più 4 andrebbe sull'Inter a più 7, però se l'Inter vincesse a Empoli potrebbe andare di nuovo a più 4, ora vedremo ragazzi tutti i casi, andiamo a vedere anche la classifica ragazzi e facciamo una bella schedina, il bollettone, schedina della decima giornata ragazzi, prima però vorrei fare i complimenti ancora a Rodri perché è andato a ritirare il premio addirittura ragazzi in stampa L perché è infortunato, complimenti a Rodri perché ha vinto il suo primo pallone d'oro ragazzi, pallone d'oro per Rodri, centrocampista del Manchester City, molti molti complimenti ragazzi, della squadra di Pep Guardiola. Allora ragazzi andiamo a vedere e mettiamo, allora, incominciamo oggi martedì 29 ottobre con una bella partita. Allora Cagliari-Bologna ragazzi, Cagliari-Bologna è una bella sfida anche perché il Cagliari l'ha persa ma secondo me era un uomo in meno, secondo me a Udine la poteva anche pareggiare, perché si era fatto espellere ragazzi vi ricordate, Makumbu si era fatto espellere un'ingenuità da parte di Makumbu, lo sa pure lui però diciamo che il Cagliari poteva pareggiarla a Udine però. Io metterei Cagliari-Bologna, ragazzi secondo me è una partita con molti gol e metterei Cagliari-Bologna over 2,5. Ragazzi proviamo Cagliari-Bologna over 2,5. Oggi alle 18,30 ragazzi. Proviamo l'over 2,5 che vorrebbe dire 3 o più gol. Ok passiamo alla prossima partita e mettiamo, possiamo mettere Lecce e la Severona. Lecce e la Severona alle 18,30. Il Verona si chiude ma il Lecce ha bisogno di punti, io metterei Lecce e la Severona 1. Tentiamo il tutto per tutto e mettiamo Lecce e la Severona 1 perché a Napoli ha fatto una grande partita ma ha perso 1-0 contro un grande e ribadisco grande grande Napoli. Io metterei 1, mettiamo Lecce e la Severona 1. Poi vediamo il big match di martedì 29 ottobre, Milan-Napoli 20,45. Voglio dare fiducia alla capolista e a Conte ma potrebbe essere anche da due gol. Ma io voglio dare fiducia anche al Milan perché il Milan che stava giocando bene. Secondo me il Napoli farà una grande partita ma secondo me non lo so se vincerà. voglio dare fiducia al Milan, al fattore casa del Milan, fattore campo che gioca in casa e provo a mettere Milan-Napoli 1x. Potrebbe finire ragazzi in pareggio, quindi Milan-Napoli 1x ragazzi. Potrebbe prendere il fattore campo perché il Milan gioca in casa ragazzi. Il Milan gioca in casa e potrebbe prendere frutto il fattore campo. Allora andiamo a quelle di domani ragazzi. Mercoledì 30 ottobre ragazzi e vediamo che c'è mercoledì 30 ottobre alle 18.30 incomincia Empoli Inter. L'Inter favoritissima anche un po' delusa dal fatto che ormai l'aveva vinta con la Juve invece la Juve l'ha ripresa. Dal 4 a 2 ha fatto 4 a 4 ragazzi. Un'ingenuità da parte dell'Inter pazzesca. Non si può subire così tanto. Eri 4 a 2 potevi fare 5 a 2 e ti hanno ripreso 4 a 4. Non dovevi subire così tanto ragazzi. L'Inter si deve rifare. Quindi in casa dell'Empoli favoritissima e mettiamo ragazzi Empoli Inter 2. Mettiamo Empoli Inter 2 favoritissima in casa dell'Empoli. Mercoledì 30 ottobre alle 18.30 Empoli Inter 2. Poi la prossima Venezia Udinese alle 18.30. L'Udinese che è nelle prime posizioni sta facendo un campionato veramente eccellente. Il Venezia che è nelle retrovie. Penultimo 5 punti ragazzi. Quindi direi Venezia Udinese x2. Mettiamo Venezia Udinese x2. Tentiamo il tutto per tutto. Poi allora Atalanta Monza. Si sono visti molti gol ragazzi. Molte marcature. Ma secondo me con il Monza qualcosa cambierà perché il Monza ha anche un po' di difesa. Quindi direi Atalanta Monza 1 ragazzi. Atalanta Monza 1. Proviamo a mettere. Ragazzi. L'Atalanta l'ultima l'ha vinta 6 a 1. Un punteggio tennistico mi verrebbe da dire ragazzi. La vedo ancora favoritissima l'Atalanta ragazzi. Ma il Monza potrebbe tenere bene. Io direi senza mettere over possiamo mettere Atalanta Monza 1. E andiamo con la prossima. Juventus Parma. Allora Juventus Parma io direi anche qui che la Juve può vincere solo 1 a 0 perché fa tanta fatica a segnare specialmente in casa. Quindi direi Juventus Parma ragazzi 1. Dopo la bella prestazione che ha fatto in casa dell'Inter. Secondo me over credo che non ci sarà. Massimo Massimo vincerà 2 a 0. Ma comunque potrebbe e dovrebbe vincere la Juve. Quindi ragazzi Juve Parma 1. Proviamo e tentiamo. Alle 20.45 di mercoledì. E ora andiamo con le ultime 3 di giovedì 31 ottobre per la schedina della decima giornata di Serie A ragazzi. Allora giovedì 31 ottobre troviamo Genoa Fiorentina alle 18.30. La Fiorentina è in un momento veramente top. Nel Genoa è appena arrivato Mario Balotelli. Il Genoa è proprio nelle retrovie ragazzi. La vediamo al terzo ultimo posto ragazzi 6 punti. Quindi molto molto difficile per il Genoa che va nelle retrovie della classifica di Serie A. Quindi io direi Genoa Fiorentina alle 18.30 metterei un per ripararci un... possiamo mettere un X2 ragazzi. Togliamo l'over per sicurezza e mettiamo un Genoa Fiorentina X2 ragazzi. Lasciamo X2. Poi andiamo alla prossima e vediamo Como Lazio. Andiamo a vedere in classifica il Como com'è. Perché la Lazio sta andando veramente bene. Ottimamente ha vinto col Genoa 3-0. La Lazio è a 16 punti. Invece il Como è a 9 punti. Quindi andiamo a mettere Como Lazio. Può essere da tanti gol. E proviamo a mettere Como Lazio due gol trasferta. Over 1.5 trasferta. Proviamo a metterlo. Perché può avere una quota bella alta. Quindi Como Lazio trasferta due gol alle 20.45 ragazzi. Proviamo a mettere questa. E poi nella maggior parte delle quote di scommesse ha una quota bella alta. Trasferta due gol di Como Lazio. Poi Roma Torino. Si conclude la decima giornata di Serie A con Roma Torino. Secondo me la Roma che si è fatta. Che ha subito 5 gol. Può subire anche col Torino se Juric non aggiusterà niente. Quindi Juric è veramente in bilico ragazzi. Vedo una partita da 3 gol complessivi. Quindi mettiamo Roma Torino ragazzi. Over 2.5. Proviamo a mettere Roma Toro. veramente una partita che è lì dove si può decidere il futuro di Juric ragazzi. Roma Torino perché se la Roma fa male secondo me esonereranno a Juric. Juric verrà esonerato. Il Torino vincerà secondo me perché Juric è in bilico. Quindi Roma Torino over 2.5. La vedo una partita da 3 gol complessivi. Quindi adesso andiamo a fare il riepilogo di tutte ragazzi di tutte le partite. Allora Cagliari Bologna si comincia con 2 gol. Cagliari Bologna abbiamo detto ragazzi 2 gol. O anche 3. Comunque bisogna provare l'over. Over 1.5 o anche l'over 2.5 perché secondo me può essere una partita anche da 3 gol complessivi. Poi Lecce Verona 1x, Milan Napoli 1x, Empoli Inter 2, Venezia Udinese x2, Atalanta Monza 1. Ma si può provare anche l'over ma secondo me è meglio l'1. Juve Parma 1. Poi troviamo Genova Fiorentina x2, Comolazio trasferta 2 gol e Roma Torino over 2.5 ragazzi. Quindi spero che il video vi sia piaciuto perché questa decima giornata incomincia oggi ma è ricca di partite veramente belle. Questo big match ragazzi, Milan Napoli è veramente tosto perché se vince il Napoli può fare più 7 sull'Inter. Ma se l'Inter riuscisse a vincere a Empoli dove è secondo me favoritissimo ritornerebbe più 4. Ecco ma il Milan è una grandissima squadra ragazzi. In casa secondo me lo potrebbe fermare. Quindi io direi veramente 1x ragazzi. Mi raccomando Milan Napoli 1x. Allora, questa era ragazzi il bollettone, la schedina della decima giornata di serie A ragazzi. Mi raccomando supportatemi, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate questa schedina della decima giornata di serie A ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo ragazzi in un prossimo video. Ciao a tutti!